12 furti più uno sventato dal 18 dicembre ad oggi nell'area di Magena, Sanguinetto e Campodonico. Oltre a queste denunce, moltissime segnalazioni di persone o movimenti sospetti sono pervenute a Carabinieri Polizia, a lavoro da settimane per porre fine a questa serie di colpi. Intanto il Comune ha chiesto aiuto al Prefetto di Genova, sollecitato dal Consigliere di Minoranza, Sandro Garibaldi, e dall'estezione locale della Lega. Noi abbiamo fatto proprio una richiesta specifica, ci sono delle tecnologie diverse, con dei visori notturni, ad infrarossi, che riescono dall'alto, anche nella boscaglia, a individuare questi personaggi. E visto che ormai sono più di un mese e non si sono riusciti ad acciuffare, la nostra richiesta è quella di una maggiore attenzione, sia tramite del personale aggiuntivo, sia tramite delle tecnologie diverse e che aiutino le forze dell'ordine. L'idea è quella che non si tratti di una sola batteria di ladri, ma di diversi autori di furti. Sottrazioni che hanno riguardato poche migliaia di euro di defluttiva, eseguite con mezzi di fortuna e non con arnesi da scasso. Ad essere colpite abitazioni isolate e seconde case, dalle quali i ladri sono fuggiti a piedi attraverso le aree boschive. Abbiamo intrapreso alcune azioni. Innanzitutto occorre ricordare che vi sono le telecamere lungo la strada, all'ingresso della zona di San Pier di Canne, che è una strada senza sbocco a Campodonico, per cui tutte le autovetture sono state filmate. Va dato atto però che questo non basta, in quanto sono stati trovati dei giacigli nelle fasce, nella collina, per cui tante persone di questi ladri si presume anche che dormano all'aperto o nei casolari. Alla luce di ciò abbiamo installato delle fototrappole. In attesa della risposta alla prefettura, le forze dell'ordine proseguono l'orazione di indagine e presidio. I carabinieri invitano i cittadini a segnalare direttamente al loro centralino eventuali casi sospetti, chiamandolo 0185 36 15 00.